Cosa devo dire? Una bella giornata divertente, il meglio di Miami a parte la temperatura. Le barche sono divertenti, il livello della flotta è altissimo, non c'è nessuno, anche i nuovi armatori che sono entrati, tutti bravi perché vengono da classi importanti, quindi come Carlo Perone, anche lui si è comportato bene, ho le prime sue difficoltà perché la flotta è tanto forte, ci sono dei gran bei timonieri. La barche è divertentissima, comprateli e venite a regattare con noi. Carlo Alberini è stato il campione dell'Audi Selene Series 2009 in Europa, Carlo come tu che hai regattato sia con la flotta europea che con la flotta americana in vista del prossimo campionato mondiale a San Francisco? I livelli sono molto simili, diciamo che i primi 10 americani sono come i primi 10 europei, sono due flotte molto simili, le barche grazie al cielo sono veramente monotipi, quindi permettono di regattare in assoluta monotipia e quindi chi fa primo è facilissimo che la regata dopo faccia anche decimo. Non ci sono grossi scarti, oggi ovviamente il vento ha fatto la sua parte perché era veramente, veramente difficile oggi. Grande lavoro per i tattici. Bene, allora in bocca al lupo per domani. Grazie.